Buongiorno dal Tg1, il presidente Mattarella interviene sui valori fondanti della Repubblica, la solidarietà è un patrimonio degli italiani, è nel nostro DNA ed è ciò che rende grande il paese, dice il capo dello Stato in visita alla comunità di San Patrignano. Non ci si può arrendere alla paura, chi ha responsabilità pubbliche lo consideri. L'inviata Simona Sala. La solidarietà è un bene prezioso che ha reso e rende grande l'Italia e San Patrignano con i suoi ragazzi che sconfiggono la dipendenza e vengono pienamente recuperati alla vita, ne è dimostrazione lampante. Il capo dello Stato oggi è qui nelle colline romagnole, nella comunità fondata 40 anni fa da Vincenzo Muccioli. Qui si intrecciano dolore e rinascita, occasione forte per ricordare i valori della nostra comunità. Qui si respira solidarietà e questo è un patrimonio del nostro popolo. Nel DNA degli italiani ve la solidarietà. È un bene comune prezioso e questo va sempre considerato a partire da chi ha responsabilità pubbliche. Mattarella ascolta le storie di Melita, di Leonardo. Hanno cominciato a drogarsi a 13 anni e hanno trovato nella catena di solidarietà il recupero di San Patrignano. La strada per tornare a vivere è un percorso doloroso possibile solo se le persone non si chiudono in se stesse. Concetto valido per tutti i mutamenti della società che possono anche spaventare. Anche di fronte a mutamenti così tumultuosi, grandi, profondi del nostro tempo, si rischia di pensare che a chiudersi in se stessi possa essere addirittura un rifugio. Le preoccupazioni vanno comprese, nessuno ha il diritto di ignorarle, ma non ci si può arrendere alla paura. Unità del paese non è solo territoriale, dice Mattarella, significa coesione sociale, destino comune e il capo dello Stato ne è garante. Diplomazie al lavoro per risolvere il caso della Lifeline Malta.